Like a Hellcat E benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi ragazzi siamo qua con Nita Che cercheremo di portarla al grado 15 A grado 15 Quindi andremo a fare solo singolo Per portarla a grado 15 Nostro obiettivo è questo Grado 15 Come avete il tuo dal titolo Speriamo che ce la facciamo La dobbiamo cambiare perché E' un po' Lenta Nita A sparare un po' lenta Come vedete Però toglie tanto Toglie tanto E questo è buono Ce la camperemo un poco Se no ci vengono ad uccidere Cioè se lo sapete no Ce la camperemo perché Nita è scarsa La tengo a livello 7 A livello 7 grado 14 scusate E la dobbiamo portare al grado 15 Quindi ce la camperemo un po' Quanti funghi che stanno succedendo qua Ma raga volevo uscire Ce la camperemo un attimo Arriviamo a tre Poi push Se si sparano mi metto in mezzo a fight E cerchiamo anche di vincerla Ecco allora Uno sta là come avete visto In quel cespuglio E l'altro non so Per il problema che io mo devo uscire Come faccio Ecco Avete visto Come facevo 15 secondi E' buono però Terzo è buono 30 coppe sono un po' tante Eccoci qua Siamo quasi al grado Qui muovici Per lcp pilot Wow Ragazzi Ce la camperemo Ce la camperemo Ce la camperemo Ce la camperemo Per non farci uccidere Non perdere coppe Perché stiamo sui 288 Mi sembra Sì 288 Stiamo Dovrei sparare Ma non voglio Se no Viene qua Perché quello è forte Siamo a 288 Quindi dai Ce la possiamo fare Il video durerà poco Però Non fa niente Solo che mi sono dimenticato Una cosa Però ve lo dico alla fine Ve lo dico alla fine Ok Quello sta camperando In quel cespuglio Se mi vedete Mirare Ne siamo in 5 Ok Già ho una bellissima challenge Per Dopo questo video La farò domani La farò domani E sarà bellissima Non so se Spoilerarvela Oppure no 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 Dai no È meglio di no Non ve la spoilerò Dopo Questo video durerà poco Ci facciamo qualche server privato Con i bot Con i bot Ne siamo in 3 Esco da sta safe Stanno Oddio raga No 208 No raga Raga Vabbè Più 6 Ce ne mancano altri 6 Raga Altri 6 6 E andiamo a livello 15 Dignita Speriamo dai raga Voi ti fate me Oppure non ti fate me Scrivetemelo sotto nei commenti Ti fate oppure non ti fate me Ti fate o non ti fate Per me Oddio raga L'avete visto Il primo Rimettete il video indietro E guardate Guardate Il primo Lo dovete guardare Io me la cambio Perché non mi voglio far uccidere Ragazzi Hashtag Argio Argio Stronzo Meno 6 E vabbè raga Chi è questo Vabbè Purtroppo Ci tocca Ci dobbiamo romperare Solo che io credo Che voi Dite che io sono Nobbo Però Non fa niente La devo vincere Cioè la devo fare Speriamo che non mi passa un Il primo come prima E vabbè Ops C'era qualcuno Ok Scappiamo Piper Che c'è forte Piper Raga mi sembra che serve Piper Non lo facciamo Ehm Guardalo 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 Raga che dite lo sparo Però più vita di me Vabbè Eh si mi arrivano le notifiche Di sespo E gi gi rollo No no Dibriò Brubi Bruder Sì a misi A misi No 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 Mi ha deluso Ah si Mi ha deluso Vai orso Non fa niente orso Grande Però aspetta Vediamo Vabbè ma sicuramente lo farà Più uno Eh vabbè Si sapeva Dai raga Non ce la possiamo fare Nel frattempo qua Si sta piovendo Uff Spariamo un po' A caso Eccoci da una lampa Di canne 6.9 Eh L'abbiamo perso P3 Manca uno Per arrivare a 300 Quindi Dobbiamo Camperare Ok Eccoci qua Allora Ne siamo in 9 Sto inanzi Ne siamo in 8 Basta che Riva 5 Poi esco No Maria Io esco Esco Nel senso No 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 E vabbè Vabbè Zero Ok per fortuna Zero Per fortuna E vabbè Niente ragazzi Non ce l'ho fatta A poterla A 12 Ma Ci vedremo Nella prossima challenge Abbiamo questa Cassa In questo video Finisce così Ci vediamo Nel prossimo video E Bye Bye